Abbiamo visto i dati di differenza di stipendi tra i medici calabresi e i medici dell'Emilia Romagna. Ci saremmo tutti stupiti negativamente se gli stipendi dei medici calabresi fossero stati più alti di quelli dell'Emilia Romagna. Meno male che non è così, anche perché... Non è che un medico calabre, però aspetti, questo devo dire che è un medico calabre che... Ah sì, probabilmente, siccome lavora in strutture più complicate, probabilmente è bravo almeno tanto quanto quello emiliano. Secondo me no, perché in Emilia Romagna hanno delle strutture più specializzate, hanno delle specializzazioni maggiori. E quindi è giusto pagare meno un medico calabrese? Bisogna utilizzare il metodo meritocratico. Se i medici fanno meglio il loro lavoro, devono essere pagati di più, ma questo è normale, come dovrebbe essere in tutte le sanità. Credo che sia giusto... Cioè, mi scusi, non ho capito. A parità di lavoro... A parità di lavoro... Qualità. A parità di... Premiare la qualità del lavoro. No, la qualità di... Scusi, ma i casi di malasanità lei li ha presenti in Calabria. No, quello è un altro paio di maniche. Eh, però dipenderanno anche dagli medici che lasciano i bisturi negli stomaci della gente. La qualità non dipende dal singolo lavoratore, ma dall'organizzazione complessiva. No, non facciamo i bonisti. A volte dipende anche dal singolo lavoratore, che ci sono magari medici molto bravi, molto specializzati, che devono essere pagati di più, necessariamente. Quindi bisogna premiare maggiormente... Quindi secondo lei è giusto pagare meno un medico calabrese? Non voglio capire. Che fa lo stesso lavoro di uno di me. Io non direi che ce l'ho col medico calabrese. Ci sono tanti medici calabresi che lavorano in strutture di eccellenza, magari in tutta Italia e in tutto il mondo, che vengono pagati di più. Ma la sanità calabrese non è proprio un'eccellenza in Italia. Cioè non veniamo a fare bonità.